Parretti in avanti, Perre di Bala, la mette giù di Bala è tutto solo, di Bala, di Bala! Palermo 1, Sampdoria 0 Il cross verso De Silvestri riesce a colpire di testa Castaldello, il pareggio della Samp La palla arriva a Larrondo, la giocata, attenzione, calcio di rigore, è finito giù Quagliarella ed è calcio di rigore per il Toro al diciannovesimo minuto Larrondo e Andanovic, para il rigore dell'argentino, si conferma insuperabile, Samir Andanovic Ancora Di Natale, Muriel, Muriel, la palla di ritorno, Di Natale! Di Natale! Fantastico gol di Totò Di Natale! E la combinazione con Muriel riparte da dove aveva finito Totò Di Natale Gol numero 194 in Serie A Errore! Ancora Di Natale! Di Natale! 2-0! Higuain, dall'altra parte c'è Cagliejon, Higuain lo cerca, gran palla, Cagliejon! Napoli in vantaggio con Ossè Maria Cagliejon! Marchese ancora a cercare Pinilla! E questa volta segna Maurizio Pinilla, debutta così, 1-1 Butta dentro il pallone, c'è Higuain, anche Koulibaly, De Guzman la prende, De Guzman! Il gol del Napoli, appena arrivato, De Guzman si presenta così, vince il Napoli a Genoa La firma è di De Guzman!